Il girone di andata della casertana si conclude come peggio non si poteva. Ladrano vince 2-1 e in guaia l'11 di Pietro Pinto. Scelte obbligate per il mister, costretto a rinunciare a quattro elementi. Si è fatta sentire l'assenza di capozzo con polverino d'auria quasi mai pericolosi. I siciliani ringraziano e bissano il successo del 2004-2005 quando sul neutro di Eboli si imposero 2-0. Gara condizionata dal vento che in più di una occasione ha messo in difficoltà i portieri. Nella prima frazione del gioco ci provano il rosso-blu con una punizione di Di Maio da oltre 30 metri, sfera che finisce alta di un niente. Le emozioni si fa per dire tutte nella seconda frazione. In 3 minuti l'11 di Di Maria chiude i conti. Catania al 67esimo approfitta di un regalo dell'arbitro che non sanziona un fallo su Mastroianni. L'attaccante entra in aria e fa secco di Matteo. In fotocopia il raddoppio con Mastroianni che prolunga il cross di Vassallo si fa trovare pronto e Falchetti sono abbattuti. La rimonta al 72esimo diventa impossibile perché Lauro reagisce ad un fallo subito per lui rosso diretto e Casertana in 10. C'è appena il tempo per accorciare con Di Maio che con una precisa punizione non lascia scampo a Furlan. I fischi del pinto sanciscono l'ennesima sconfitta di Rosso-blu che domenica prossima senza Polverino e Lauro squalificati ospiteranno il Sant'Antonio Abate. Non sarà l'ultima spiaggia ma non vincere complicherebbe maledettamente la risalita verso zone più tranquille della classifica.